arriva il vento girano le pale e arriva anche una bella energia pulita siamo sicuri che sia proprio pulita qual è l'impatto ambientale di una pala eolica quanta energia produce posso mettermi una pala o un rotore nel giardino oggi voglio approfittare della presenza di un esperto approfondire insieme a voi questa tematica venite con noi come sapete sono un grande appassionato di energie alternative abbiamo personaggi molto alternativi perché io vorrei capire cosa stai facendo marco prendo misure sai che io prendo sempre le misure deve misurare tutto cosa stai misurando l'altezza no 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 qui siamo a misurare il decibel ossia la misura del suono 80 decibel con marco che chiacchiera e il ventolone la che ci fa fresco ecco questo per dire che noi le vediamo girare come le girando un po nell'ambiente ma non sono proprio silenziosissime devo dire di no e qui ne abbiamo una sola invece luca tu che sei esperto di questi monumenti dell'architettura come si può definire della tecnologia tecnologia quanto è alta un altro di questo genere tendenzialmente varia l'altezza del rotore la navicella che poi supporta le tre pale a un'altezza indicativamente di un centinaio di metri adesso a seconda dei modelli può essere più di 100 metri per il tipo di vento che abbiamo noi in questo territorio tende a non superare 115 120 metri questo dovrebbe attestarsi intorno a un centinaio di metri un centinaio di metri di altezza e le pale dovrebbero avere una sessantina di metri poi non conoscendo precisamente il modello chiaramente diventa complicato però insomma anche lì sempre in funzione del vento che abbiamo in questo territorio territorio abbastanza pianeggiante non non caratteristico per il vento però questa tipologia di pale da 60 metri 80 metri beh sono 120 150 di diametro ce n'è così da catturare il vento parliamo del territorio questa è la provincia di brindisi qui siamo a sud di erchie questo è un parco eolico autorizzato qualche anno fa credo sia stato uno dei primissimi se non il primo parco eolico della zona credo che un aerogeneratore di questo tipo non sia inferiore ai 3 megawatt insomma due mega e mezzo tre mega 3 mega e mezzo adesso siamo arrivati anche a 6 mega 7 mega per cui considerando che su un parco eolico di 10 pale ci possono essere 30 40 50 mega che vanno ad impegnare insomma il territorio così non sono i mega del computer non sono i mega del computer mega fatta sì sì parliamo di potenza insomma quello che è il vento nel far ruotare le pale genera energia che viene trasportata con queste mega strutture quindi l'impianto non è solamente la pala è no 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 l'impianto è una complessità di di attività la pala è probabilmente sì quello più costoso dal punto di vista economico ma quello paradossalmente più semplice perché poi tutto il resto è elettrodotti interrati sotto stazioni elettriche con trasformatori che cambiano prima da media tensione perché qui gli aerogeneratori lavorano in media tensione per portarle in sotto stazioni di alta tensione e quindi c'è tutta una serie di tecnologie che è necessaria per poi far arrivare l'energia prodotta sulla infrastruttura nazionale e poi ci sono tante opere di movimentazione dei mezzi perché essendo delle tecnologie molto complesse necessitano di spazi di manovra molto ampi per cui vengono ripristinate strade vengono costruite strade ex novo questo per la costruzione per il trasporto durante la fase di cantiere ci sono anche degli aspetti impattanti dal punto di vista del territorio ma quindi non è che se io ho un bel terreno mi metto la mia pala eolica mi produco corrente così per arrivare alla produzione dell'energia naturalmente si è fatto uno sforzo di attività che hanno comportato insomma investimenti tu parli di parco eolico mi viene da pensare che ci sono delle zone in cui è possibile fare questo genere di installazione si ci sono delle zone che naturalmente devono essere libere da vincoli urbanisticamente valide ambientalmente valide se il termine mi viene mi viene fatto passare nel senso che ogni territorio ha una strumentazione urbanistica e paesaggistica ambientale insomma in senso lato che determina la possibilità o l'impossibilità di piazzare insomma questo tipo di macchinari e tutto ciò che gli sta intorno quindi capidotto di connessione, sottostazioni, ampliamenti di strade rispetto a zone dove non è possibile invece andarsi ad insediare la fauna naturalmente non riconosce le mappe noi mappiamo delle zone e diciamo che in quella zona c'è più fauna, c'è più flora non è che un flusso migratorio decide di stare nella mappa in cui noi abbiamo tipizzato cioè se migratorio è migratorio quindi è chiaro che laddove non è mappato come zona diciamo di nidificazione piuttosto che zona tutelata dal punto di vista della fauna si può fare ma non è detto che poi in fase migratoria non crei un danno a volatili che sono appunto in percorsi migratori di andato o di ritorno diciamo che ci sono impatti, ci sono impatti di vario genere, c'è l'impatto ambientale in sé per sé quindi che riguarda il consumo del territorio che nel caso dell'eolico rispetto al fotovoltaico è minimo c'è l'impatto acustico che nel caso dell'eolico è più accentuato questo in particolare il grosso eolico, gli impianti di grossa taglia hanno comunque degli impatti acustici tendenzialmente importanti tant'è che devono essere disposti a distanze di sicurezza rispetto alle case c'è l'impatto in termini di sicurezza, possono esserci problematiche di rottura degli aerogeneratori o accumuli di ghiaccio per cui la gittata, il distacco di un pezzo potrebbe causare danno alle strade o alle persone che ci vivono c'è una cosa che non ho mai capito, perché mettono una pala eolica qua, una là a 400 metri, una là a 1 km sarebbe più semplice metterle tutte vicine, occupo meno ambiente gli enti non decidono dove andare a posizionare le pale, sarebbe più semplice se ci fosse una mappatura una caratterizzazione del territorio da parte delle amministrazioni che si curano del paesaggio e decidessero loro una regolarizzazione del posizionamento, che invece purtroppo non può avvenire perché a macchia di leopardo ci sono vincoli più o meno ovunque che comportano l'impossibilità di piazzare questi aerogeneratori secondo una regolarità che non determinerebbe l'effetto selva e quindi sarebbe visivamente più qualitativo ci sono anche delle regolamentazioni tecniche che impongono l'evitare l'effetto selva di fatto invece non è possibile perché immaginando un quadrato di punti non necessariamente in tutti i punti c'è disponibilità perché magari in quel punto capita un reticolo di alta pericolo, un reticolo idrogeomofologico, un vincolo ambientale particolare per cui lì l'aerogeneratore non si può mettere, cosa si fa? Si sposta di 200 metri perché magari non esiste il vincolo e quindi c'è disponibilità di terreno L'effetto selva abbiamo scoperto che è un po' sparpagliato come dire se proprio devo mettere più pale e metterle con una logica geometrica lineare Un po' come hanno fatto sullo stretto della manica quando si arriva in Inghilterra nello stretto della manica si possono vedere dei disegni precisi perché ci sono gli aerogeneratori posizioni, in quei casi sono i cosiddetti aerogeneratori offshore sono posizionati in mare, questi sono quelli onshore effettivamente sono anche dei disegni carini perché possono essere dei rombi piuttosto che dei quadrati o dei cerchi, quindi invece questa è una roba che sul territorio difficilmente o rarissimamente si ottiene Ma che tipo di studio viene fatto per esempio sui venti? C'è un esperto ventista che dice il vento gira di qua o le mettono a caso? Gli studi professionali tendono ad effettuare degli studi particolari attraverso degli aggeggi che si chiamano anemometri che però non vedo ma che ci saranno tranquillamente in zona e che determinano le condizioni del vento nell'arco di un anno per cui poi loro fanno delle medie, fanno delle statistiche e in base a questi risultati decidono se quel territorio può essere più o meno adatto ad installare un parco eolico e che altezza deve avere, che caratteristiche deve avere la pala però questi sono studi già un po' più specialistici che si tendono a fare gli stessi investitori prima di arrivare in un territorio E qui in Puglia quali sono i venti prevalenti? I venti prevalenti sono tendenzialmente quelli che arrivano da nord che possono essere la tramontana o il maestrale oppure in questo caso l'aerogeneratore è ruotato verso sud perché c'è tendenzialmente vento di cirocco o comunque da sud e questo tipo di rotazione l'aerogeneratore riesce a farla perché su di esso in particolare sulla navicella è posizionato un piccolo anemometro che determina le condizioni del vento e non solo, anche la velocità perché poi a velocità eccessive l'aerogeneratore deve bloccarsi perché potrebbe non avere poi la condizione per potersi fermare e questo potrebbe creare incidenti e quindi il rischio di quelle pale rotori fai da te qual è? che non hanno dei sistemi di sicurezza magari prendono fuoco per eccesso di velocità se qui arriva un ciclone cosa succede? la pala gira a mille? no, 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 la palla si ferma la palla si ferma superate determinate condizioni di ventosità la pala deve necessariamente fermarsi perché inizierebbe a ruotare troppo velocemente per cui la struttura meccanicamente non ce la farebbe a tenere io pensavo ne approfittassero per fare il pieno di energia assolutamente invece si bloccano per evitare di andare in surriscaldamento sono diversi conventi da 6, 9, 10, 12 metri al secondo però potrebbe capitare una situazione di ventosità maggiore per cui l'aerogeneratore deve necessariamente fermarsi ok, grazie Luca il nostro esperto maestro del vento esperto è una parola grossa, appassionante lo fai anche per lavoro comunque cos'è che fai di preciso? ti occupi di rilevamenti? ci occupiamo di autorizzazione di parchi da fonti energetiche rinnovabili impianti da fonti energetiche rinnovabili è una passione molto comune è più di carattere autorizzativo che non meramente tecnico quindi sei quello che comunque decide per qualche ragione in quel punto meglio non piazzarlo o sarebbe il caso di spostarlo e tenerlo in una posizione differente ti ascolta quando dai un parere negativo ma che non sempre fa piacere sentirsi dire in genere è complicato farsi capire perché poi chi sta dall'altra parte in questo caso l'investitore o gli studi di ingegneria che stanno dalla parte dell'investitore noi siamo quelli che stanno sul territorio hanno più difficoltà a comprendere le dinamiche che girano intorno a quello specifico territorio quindi talvolta facciamo fatica però tendenzialmente si collabora si collabora e ci si riesce grazie Luca grazie Edith and gentlemen benvenuti nel fantastico mondo dell'energia eolica dal Pablo è tutto e noi ci vediamo e noi ci vediamo ma quando ci vediamo ci vediamo tutte ma veramente tutte tutte le volte che con le pale giriamo grazie a tutti 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 grazie a tutti